Ciao a tutti, ben tornati in questo nuovissimo video Oggi, come promesso settimana scorsa, nuovo video sulle missioni Questa è la seconda di Prapor, quella dove dobbiamo andare alla ricerca dell'orologio Allora, com'è che si fa questa missione? Bisogna andare a prendere la chiave La chiave che si chiama la machine Riki Che dove la troviamo? Basta arrivare all'appartamento a tre piani Andare nel secondo piano e dove c'è il letto andare in questa stanzina qui A destra se entrate dalla parte di fuori o a sinistra se entrate da dentro Poi dovete aprire questa giacchettina a sinistra ed ecco qua la chiavettina Ce ne sono quattro, quindi prendetele e vendetele Poi dove bisogna andare? Bisogna andare alla casa in costruzione C'è un camion con un camion cisterna Noi bisogna aprire lo sportello del guidatore e troveremo l'orologino Ora qui è successo un fight, però visto che volevo allungare il brodo L'ho anche messo e ho vinto Troppo easy amici E niente, questo video lo guardate quando io sono ancora in Spagna Però tornerò presto, don't worry E niente Ecco qua il camion Il camion cisterna che vi dicevo E quella chiave vi servirà per aprirlo Ora io qua ho avuto culo Perché sono arrivato ed era già aperta Quindi Stavo molto attento Tadà è aperto Quindi ecco qua l'orologino sotto ai piedi del guidatore E quindi niente Cioè Tutto qua questo Questo video è fatto E poi comunque le prossime missioni Magari tipo quella dei Saleua Della terapista Le farò in modo da farvi vedere dove si trovano più Saleua Bla 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 Quindi niente Andiamo da Prapor Andover Gli diamo l'orologino Complete E siamo a posto La prossima è Shotout picnic E niente Noi ci vediamo in un prossimo video E come avete visto di nuovo all'inizio Ho messo il coso La intro tra virgolette Che vi faccio vedere i giorni che vado in live Più la pagina Instagram che ho fatto E quindi insomma Venite a seguirmi quei giorni Se volete supportarmi Se volete anche Tarkov Perché ormai sto portando Spesso quello Tranne la domenica Quindi niente Io ve ne ringrazio di nuovo per la visione E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao